Il segnale è venuto, non sono sicuro sulla propagazione, ma ci possiamo fare. Grazie molto Steve, mi chiamo Roshio, Romeo Alta, Sierra Hotel in Kudalte e più dettagli. Ocean Henry 6, India Golf, Alpha 6, One Radio, di Abu Dhabi. Buon giorno, Steve. Punto di intervento del full-throw roofing a 2,7 kHz. Così a 6 kHz in entrata, così a 2,7 kHz. Bravo, Yankee, One, Bravo Radio. Bravo, Radio, from China. Bravo, Yankee, One, Bravo Radio. Bravo, Yankee, One, Bravo Radio. Roger, Roger. Bravo, Radio, Five Minutes. Yeah, okay, nice to meet you, my friend, the Papa Yankee, One, Bravo Radio. Alpha 61 Radio. Yeah, yeah, before a few days, I hear you in the 40 meters. I get here in my load, mind you, over. You're talking. Thanks. Alpha Yankee 1, Bravo Radio.